Da oggi le acque del mare di Pesaro saranno ancora più pulite. E' questo uno degli effetti del completamento dei lavori all'impianto di depurazione al depuratore di strada Borgeria, qui dove ci troviamo. Ora un depuratore che migliorerà la qualità del trattamento delle acque provenienti dalla nostra rete fognaria. Qui tra vasche di arrivo liquami, vasche di accumulo, vasche di stoccaggio c'è un trattamento innovativo su un impianto che è vecchio, dagli anni 70, che dunque ha avuto diverse fasi di vita. Ora si arriva alla fase migliorativa assoluta. Con questo intervento di adeguamento e ampliamento del depuratore si chiude un procedimento di infrazione comunitaria partito nel 2009. Ora gli interventi sono tarati sul fabbisogno di 116 mila abitanti, equivalenti a oltre 9 miliardi di litri di acque trattate all'anno. E' un trattamento che consentirà di restituire in ambiente un'acqua ancora più povera di azota e fosforo e con una carica batterica e microparticelle in sospensione praticamente inesistenti. In questa sezione nella vasca biologica crescono i batteri che si nutrono degli inquinanti organici alternando due diverse fasi anossica e aerobica che grazie a questa nuova tecnologia avvengono con maggiore efficienza e risparmio di energia. Si completa il progetto complessivo della depurazione di tutta la città. Oggi possiamo dire che gli abitanti e le attività di Pesaro sono depurate al 98%, quindi praticamente completamente. Usiamo dall'infrazione comunitaria che sappiamo essere non solo a Pesaro ma c'era anche a Urbino e in altre realtà. Quindi diciamo che è un contributo importante su quello che è l'aspetto ambientale sia del fiume Foglia che della balneazione del mare Adriatico. Quindi possiamo dire che dopo i depuratori di Trieste e Rimini che sono stati completamente rinnovati anche l'impianto di Borgeria che passa da 90 mila abitanti a 115 e da oggi la possibilità di avere tutte le tecnologie migliori e innovative contribuisce notevolmente al miglioramento della qualità dell'ecosistema dell'Adriatico. È un investimento importante, complessivamente parliamo di oltre 26 milioni di euro e ha richiesto competenza e professionalità perché vorrei evidenziare che questo progetto è stato realizzato e completato avendo il depuratore comunque sempre in funzione. Quindi è come potenziare e modernare un motore di una macchina mentre la macchina va. La Marche Multiservizio ormai da diversi anni sta improntando la sua azione sulla sostenibilità ambientale e penso che questo possa rappresentare il giusto percorso per tutto il nostro territorio sia per dare risposte a carattere provinciale sia per dare risposte a carattere regionale sia sull'impiantistica sia sull'approvvigionamento idrico. Questo può rappresentare e rappresenterà perché poi all'interno del Consiglio di Amministrazione abbiamo dato anche queste indicazioni, un punto di divulgazione scientifica aperto alle scuole e ai cittadini per far partire una nuova coscienza di carattere ambientale. Penso che possa rappresentare questo il miglior percorso possibile per una nuova cultura ambientale. L'importanza dell'intervento è stata misurata anche dall'importanza delle personalità presenti a questa inaugurazione. A cominciare dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci che in un lungo intervento ha sottolineato anche l'importanza non solo di questo intervento ma di tanta programmazione per evitare ulteriori crisi idriche che continuano a susseguirsi estate dopo estate. Oltre a Ricci presente l'assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi, il prefetto, il questore, ma soprattutto ad applaudire questa inaugurazione anche Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Per noi è un po' un modo per continuare una catena, noi affacciamo quasi tutta la nostra presenza sull'Adriatico che è l'altro beneficiario di questa operazione e lo facciamo quindi quasi a completamento di un percorso che ci vede impegnati su operazioni analoghe da Trieste in giù fino a oltre Pesaro e quindi per noi è un coronamento di un percorso importantissimo.